Buongiorno a tutti, ultima giornata di allenamenti, oggi al nuovo di via Olimpia di Castelfrentano, questo è il gruppo di esordiente di mister Giuseppe e Gian Cristoforo, hanno finito la loro seduta di allenamento, qua mister Giuseppe, qua uno che fa ok, questo è il gruppo dei pulcini di mister Giulio Massimini e c'è anche il mister Giordano Simone, ecco i ragazzini, i pulcini tutti presenti, ci sono tanti nuovi quest'anno, il gruppo dei pulcini, è quasi finito l'allenamento, ma i ragazzi vogliono sempre giocare, riprenderanno gli allenamenti lunedì, grazie a tutti, grazie a tutti.